Più di 10 kg di cocaina e oltre 80.000 euro in contanti nascosti all'interno dei parafanghi dell'auto su cui viaggiava, è successo a Milano dove i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza hanno arrestato in flagranza di reato un soggetto di cui non sono state rese note le generalità, trovato in possesso di 11 kg di cocaina e di circa 88.000 euro in contanti, All'esito infatti di una complessa attività info-investigativa volta alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, i finanzieri della compagnia di Rho hanno rinvenuto lo stupefacente abilmente occultato all'interno dei parafanghi anteriori della macchina in uso all'indiziato. In particolare l'attività è scaturita da una serie di evidenze emerse dalle banche dati in uso alle forze di polizia che avevano fatto luce su alcuni controlli subiti in varie zone d'Italia dall'uomo che più volte era stato fermato dalle forze dell'ordine alla guida di costose auto di grossa cilindrata prese a noleggio, circostanza che non combaciava con la sua situazione reddituale analizzata dalle fiamme gialle. La guardia di finanza milanese ha poi esteso la perquisizione alla stanza presa in affitto dall'uomo presso un bed and breakfast della provincia nella quale i finanzieri hanno trovato l'ingente quantità di denaro nascosta all'interno di una valigia possibile provento dell'attività illecita. Il soggetto è stato così arrestato e condotto al carcere di San Vittore mentre il valore commerciale dello stupefacente sequestrato è stato stimato in circa 850 mila euro.